Ciao ragazzi, ecco a voi il video purtroppo della nostra scelta mi viene veramente malissimo a dire che dopo i 2500 iscritti dammi un fazzoletto per favore vorremmo abbandonare youtube quindi vi ringraziamo davvero vi ringraziamo veramente col cuore io ti dico abbiamo passato tanti bei momenti insieme abbiamo fatto veramente delle belle riprese e sta cosa qui non ho incavoce a parlare dicevo che abbiamo passato bei momenti insieme e ti dico per me è stato veramente un colpo al cuore voglio dire così sta malissimo dai calma ti dai dai calma ti o no o no Alli next è dimenticabile noi ci siamo ragazzi non abbiamo doniamo youtube era tutto uno scherzo per voi fan ragazzi Oh yes We figa Vi lasciamo con i nostri momenti più belli del nostro tour estivo a Jesolo Il nostro 2500 iscritti speciale Come sempre likeate non così ma col polso in su Vi lasciamo il link qua sotto di tutti i canali dove potete seguirci e trovate anche il nostro tag qua adesso su Instagram Ciao ragazzi buona visione E' il dimenticabile E' il dimenticabile Io volere Wifi Wifi ragazzi anche a Jesolo Noi ci fermiamo E' il dimenticabile E' il dimenticabile Dove siamo? In Chiazzamazzini Cosa volete tedeschi? Io volete Wifi Io volete Wifi E? Numero 1 Oh yes Cosa vuoi? Wifi Io volete Wifi Io volete Wifi Wifi gang Wifi gang Adesso Ale va a vedere se ha il biglietto Avete il biglietto di Wifi ragazzi? Il biglietto per Wifi Il biglietto per Wifi Il biglietto per Wifi Ce l'avete? Controllore contro Natu usano il biglietto di Wifi Qui picciato il biglietto qua Per favore contro Natu Ragazzi adesso è dimenticabile andrà davanti la tv con tutta la gente che guarda la partita Nel biglietto per Wifi Non ci si può Ma non ci si può C'è il biglietto di Wifi Cosa volete voi? Wifi Wifi E cosa volete signorine? Io volevo Wifi Wifi che? Wifi Gang Oh ragazze Cosa volete voi? Io volevo Wifi Cosa? Io volevo Wifi Wifi Gang Ragazzi quindi un nuovo video la settimana Aspetta 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 Iscrivetevi al canale Iscrivetevi Adesso ritorniamo alle storie Io volevo Wifi Minchia Ragazzi cosa volete? Wifi 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 Mireta Mireta Wifi 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 Ma lui sta cercando Wifi signore Tu trovare Wifi Tra l'andrex Ragazze La parla di Wifi 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 come poche cose Wifi Sposati Sposati Wifi Gang Sì Noi vogliamo Wi-Fi, noi vogliamo Wi-Fi, noi vogliamo Wi-Fi, noi vogliamo Wi-Fi Ragazzi come promesso adesso saluteremo due fan che avevamo promesso Commentate sempre se volete avere anche voi la vostra possibilità di essere salutati nei nostri video Un bel saluto a Gabriele Tomaselli E un gran saluto a Maya fino alla fine Wi-Fi gang, Wi-Fi gang, noi Wi-Fi tizzate tutti insieme a noi Oh yes Oh ma dammi una castagna Guarda sto qua per una castagna Ci vediamo al prossimo video raga Ciao Domenica Sondentro Sondentro Sondentro